stasera cosa mangi? non lo so sono ancora un po' pieno dal pranzo non penso di mangiare tantissimo ma guarda che qua c'è il menù gli okimite ah si? allora per me otto barche, quattro tempura, sashimi, sake, maguro, tirashi, temaki, tepaniaki, osomaki, uramaki guarda che cinese? lo prendo fidati amico mio questo è il miglior sushi della zona non te ne pentirai e questo sarebbe sushi conosco un posto dove lo fanno molto meglio cos'è sta roba? salsa di soia ah non è che mi convinca molto? provala è buona non mi ispira un granché provala proviamo ti piace qui amore? si molto è davvero buono ma cos'è questa cosa? crema di menta tesoro crema di menta mmm buona cogliona cogliona oh ragazzi io vi accompagno ma prendo solo una birra non è che mi fido di questi cinesi qua a parte che sono giapponesi e poi smettila di fare razzista qui si mangia benissimo ragazzi qualche ordinale? holdinale si dai per me è una polenta noi non abbiamo polenta mh anche la romana? Non, signore. Lasagna al forno? Non, signore. Ma oltre i cani cosa sapete cucinare? I stronzi. Come gli stronzi? Sushi di stronzi. Oh, Jacopo, stasera ho una fome assurda, una fome incredibile. Sì, ma stai attento, non esagerare. Ma che esagerare, esagerare, stasera mi mangio tutto il ristorante qua. La pasta non ce la faccio più, sono sazio. Ma se abbiamo appena incominciato, poi guarda che se non finiamo di mangiare dobbiamo pagare la penale. Ah sì? Allora sai cosa facciamo? Li mettiamo nella mia borsa e li fottiamo. Perché una borsa alla donna? Fatti i cazzi tuoi. Oh, guarda quei due. Dai, mangiando il sushi con le forchette. Che vergogna. I soliti italiani beceri ignoranti. Già. Faccio vedere io come si mangia il sushi. Ecco. Che è di quello? Che c'è di quello? Ma che cazzo? Ma che manda con le mani? Dello fu... Dello buono mangava così. Ma che cazzo? Che fai? Oddio mi sento incinta. Oh cazzo. Cosa? Mi si sono rotte le acque. E mi sa che per un po' niente già. Puoi giurarci. Oh ragazzi, stasera giappu Sì dai figata Ma che giappu giappu ragazzi Il sushi ve lo faccio io Come ce lo fai tu? Ma sì, non è che solo i giapponesi Mo son capaci, anche gli italiani Ho letto la ricetta, è una cazzata Andiamo, è una cazzata La faccio io Ah dimenticavo Ma cos'è sto schifo? Sushi italiano Ma va a cagare va No ma ragazzi ma dove andate? Ho seguito la ricetta alla lettera Poi il pesce è freschissimo ragazzi è fresco Ma assaggiatelo almeno Ma prima di andar via assaggiate Andiamo Andiamo dopo Non vuoi andare? Ma con quella borsa di merda dai Oh Dan vuoi venire a provare il sushi stasera? Stasera vorrei mangiare una bella pizza Dai provalo È che il sushi non mi ispira Jacopo Sì ma prima di giudicare una cosa provala Sì è che il pesce crudo non mi piace Ma fidati che è buono Il pesce crudo non mi piace Dai ma cosa ti costa venire a provare? Se non mi piace Dai provalo No santo idio perché mi devi stare addosso per provare una cosa se non mi piace? A te piace il cazzo? No A me sì Provalo Provalo No ragazzi in realtà non sono gay Era solo per un modo di Vado No è il sushi Jacopo mi aspetta Arrivo Jacopo 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 Oddio Ciao ragazzi siamo i Pantellas e questa era Cose da Sushi Se il video vi è piaciuto mettete un pollice in su E a 100.000 like Uscirà un nuovo video Noi vi ringraziamo tantissimo per averci seguito anche questa settimana E ci vediamo prestissimo con un nuovo video Un saluto Pantellano a tutti Viva Sushi Quanto sei bella oggi Perché le altre sere quindi sono brutta Grazie Gentilissimo Sembri più Più Bella Splendente Solare Attraente Molina